Il primo è un eneco 3-2 3 step 4 1 2 3 And make distance for attack men Nel primo 3 passi ci si incrocia e poi bisogna creare la distanza per l'attacco di men Ok? This is my distance for men attacking Questa è la sua distanza per men Motodash type Motodash type Make space for men Gratso di Motodash fa l'apertura per men Make sign Segnalando il motodash Open space MEN This is men Jumping Once but work And Return To Cote This distance Quindi dopo aver colpito men Zan Shin E poi ritornare Portandoselo a distanza di Cote Eeeh Zan Shin And return To Katsing Do E si ritorno alla posizione per il taglio di Do Koooo Zan Shin Zan Shin Zan Shin Katsing Ziii 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 Zan Shin A Grazie a tutti.